Un saluto dalla biblioteca, per la verità da casa mia, una situazione a cui ci stiamo un po' tutti abituando e mi sono detto ma chissà se la prossima edizione di Scienza Ultima Frontiera ci toccherà farla così ciascuna casa propria uniti solo da un filo virtuale beh io spero proprio di no e penso anche che potremo invece trovarci di nuovo tutti insieme in auditorio ma nel caso ci attrezzeremo perché l'edizione è pronta questa è la notizia che volevo darvi anche se non faccio per scaramanzia anticipazioni se no sul tema che abbiamo scelto in qualche modo profeticamente perché l'edizione è pronta da fine gennaio il tema sarà quello del corpo, lo studio del corpo, la cura del corpo quindi avremo cinque serate io penso imperdibili perché mai come adesso siamo consapevoli che siamo un corpo debole, fragile, che deve combattere e non sempre siamo attrezzati per farlo ecco proprio pensando a Scienza Ultima Frontiera sarà questa del 2020 la settima edizione mi sono detto speriamo che questa rassegna al di là dei contenuti delle singole serate ci abbia tutti abituati a essere attenti alla voce della scienza e al suo modo di conoscere che è contrario a quello della pseudoscienza o delle fake news, delle bufale che la paura, l'ansia e le aspettative enormi di questi giorni purtroppo stanno scatenando e allora mi sono detto andiamo a vedere gli ospiti che abbiamo avuto in questi anni, nelle precedenti edizioni se possono aiutarci anche in questo momento a fare luce, a tenere dritta la barra del nostro sguardo sul mondo e ho preparato una specie, io così ve lo propongo come un piccolo viaggio di ascolto di diversi dei nostri ospiti che abbiamo avuto a Brugherio che hanno qualcosa di importante da dirci su questa emergenza e sono partito proprio da gli scienziati, quelli delle scienze dure e ovviamente il primo nome che troverete è quello della nostra, diciamo così, Elena Cattaneo il suo intervento in Senato, alcune interviste che ha rilasciato una sua partecipazione a presa diretta che vi ho preparato in modo che possiate facilmente trovarli e guardarveli poi sono passato a Beppe Remuzzi che adesso è diventato il direttore scientifico del Mario Negri di Mirano è più che mai in prima linea sulla ricerca dei farmaci antivirali che siano efficaci contro questa nuova malattia ecco è importante, vi ho proposto un suo studio scientifico magari per una volta si può tentare di leggere anche noi profani un articolo scientifico e poi alcuni spezzoni di interviste in cui spiega cose che sono a mio parere piuttosto importanti ecco qui un'anticipazione ve la posso dare Giuseppe Remuzzi sarà nostro ospite il prossimo novembre poi ho trovato delle belle cose di Telmo Pivani sapete la sua capacità di spiegare in modo veramente chiaro ci spiega in un video come ragiona un virus qual è il suo imperativo evoluzionistico che lo spinge a muoversi lui che è molto più antico di noi e quindi è davvero interessante ascoltarlo un'altra riflessione anche sul nostro sistema sanitario sulla lotta che conduciamo contro questa malattia poi un audio di Guido Barbujani che propone dei siti a cui attingere informazioni affidabili il bravissimo giornalista Pietro Greco con degli articoli scritti con una chiarezza veramente abbiamo tempo prendetevi la pazienza di leggere queste cose beh non c'era bisogno di segnalarlo ovviamente Roberto Burioni lo troviamo un po' dappertutto sui mezzi di informazione direi per fortuna ma poi anche Antonella Viola vi ricordate una immunologa l'immunologia ci raccontava è una delle discipline più difficili più complicate più complesse della medicina per cui anche quelli che vendono facili soluzioni dobbiamo subito sospettare perché le faccende sono molto complicate ascoltare la sua voce in questo momento è secondo me importante ma lo stesso Roberto Defez che in un bel articolo spiega che cos'è questa zoonosi questo passaggio di virus dagli animali all'uomo ma poi anche Marco Cattaneo il direttore delle scienze le scienze mettono a disposizione un quaderno monografico sul coronavirus che si può scaricare gratuitamente e poi ho segnalato un suo articolo e poi sono passato a vedere quelli che invece possono aiutarci a vivere e gestire questi tempi di isolamento che non sono facili da reggere e per cui subito ho cercato le parole di Vittorio Lingiardi psichiatra e psicoanalista che è intervenuto più volte proprio per dare qualche suggerimento su come gestire questo tempo queste convivenze forzate trasformarle in qualcosa magari anche di nuovo e di bello ma anche l'antropologo Marco Aime che cerca di interpretare che cosa possiamo cominciare a imparare da questa emergenza ho cercato anche la biblista Lidia Maggi che ovviamente dice che questo morbo non è certo un flagello di Dio ed ha qualche consiglio su come passare anche questi periodi ecco ho suggerito anche qualche curiosità e qualche indicazione perché non tutti gli scienziati si pronunciano su tutto non so Bruno Siciliano è esperto di robotica non dice nulla sui virus però la sua università la Federico II di Napoli mette a disposizione un'offerta formativa gratuita in termini di un tema di tecnologia 4.0 veramente interessante io ve l'ho segnalata così come la climatologa Lisa Palazzi o come Patrizia Caraveo con l'INAF è l'occasione anche per in qualche modo andare ad ascoltare, imparare e perché no a riascoltarsi le serate di Scienza Ultima Frontiera io l'ho fatto perché ci sono degli argomenti che ho riascoltato con piacere ecco l'invito quindi è doppio a fare questo viaggio che vi propongo prendendovi il tempo necessario per farlo e l'altro importante i venerdì di novembre non prendete impegni ci vediamo in auditorio o ciascuna a casa propria ma ci vediamo un abbraccio a tutti